Eccolo qua, viaggio, affrontiamolo Ma che amma affronta, magari ce l'ha? Ecco guarda qua, lui c'ha buscato Aspetta lui un minuto e ti struppi Che vuoi? Ma con chi ce l'ha? No, che la piglia passa e vuoi? Non te la guarda? Eh, Maria Arca Eh, Gianni, vi piace Si, eh Che può bene ma mamma ha mandato papà Si, lo sappiamo, ma chi va mandato a facca sotto? Sono mariato Lo sappiamo E pagare a Maronella A noi non ce ne frega niente dei suoi genitori Mi dispiace, vada via Eh, eh, eh Parlate con oggi Eh, vabbè Aspetta vi prendete Big Jimmy Ma prendete Barbie e lui mi faccia la mia Ma noi non giochiamo con Big Jimmy e con Barbie Noi abbiamo la Playstation Esatto, Playstation Paratene da Playstation A casa A casa Non ci sta niente a fare con qui Belli Eh Sono un bagno e sandali Eh E Tu papà l'est Eh E in due sti malamè Significa in due sti malamè Eh Eh Però Eh Però Eh Però Questa è una televisione Sì, sì Sì Qui Bella Vi regato quando a come già su Ramo pare che le istruttrici amici a faccio noi Eeeeee 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 Eeeh Ma io te lo so Ma io te lo so Chi è qui? Eh Come firmi? Indifferente 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 Che Oh Che Che Beh